Ritorna anche quest'anno Corri Ostuni organizzata dalla Ostuni Runners Giuseppe sicuramente un'iniziativa lodevole portare tanti corridori che arrivano da tutta la Puglia e non solo in giro per la Città Bianca quindi un giro anche per ripercorrere le bellezze del nostro territorio Certamente, come ben dici abbiamo anche un fuori regione abbiamo una signora che viene dalle Marche che mi ha contattato l'altra sera proprio per questa iniziativa diceva io ci sarò anche perché sono stata in vacanza nella Città Bianca per cui abbiamo, ecco, una piccola parentesi anche al turismo gli abbiamo prenotato un albergo qui a Ostuni verrà a lei con la famiglia Ostuni è una città che corre siamo alla seconda edizione dopo il grande successo, ci tengo a dirlo, della prima edizione dove numerosi atleti di Ostuni, provincia e fuori provincia hanno preso parte a questa nostra manifestazione noi siamo qui a ripresentarla anche quest'oggi abbiamo già un numeroso numero di iscritti e siamo contenti di farli correre nella nostra Città Bianca quest'anno, a differenza dell'altro anno cosa che ci lusinga tantissimo è che non abbiamo più il doppio giro di 5 km come tengo a precisare che gli atleti un pochettino sul doppio giro sono un pochettino affannati questa volta grazie all'amministrazione comunale al nostro sindaco Gianfranco Coppole grazie anche alle forze dell'ordine, i vigili urbani e quant'altro abbiamo avuto questa autorizzazione a fare un unico giro per le città di Ostuni tra centro storico e la zona nuova di Ostuni Ostuni deve correre in tutti i sensi anche metaforici perché ne ha le potenzialità e lo dimostrano anche queste iniziative che vedono la mia amministrazione sempre disponibile peraltro l'ho fatto io quando ero ragazzo effettivamente i mezzi a disposizione le strutture erano inesistenti quindi mi ricordo consentitemelo quando Don Domenico Melpignano incontrando me Felice Dell'Edera vicino all'Orlandini Bardaba ci disse voi dovete partecipare alle nazionali di corsa campestre a Messina che sembrava dall'altra parte dell'emisfero parliamo del 68 per cui voi immaginate io e Felice siamo partiti in treno io con i pantaloncini corti e siamo andati a gareggiare per una gara nazionale del centro sportivo poi sono stato più volte campione regionale delle tre fornaci che era una classica di corsa campestre e ho partecipato più volte anche campione regionale quindi sono veramente vicino con i miei ricordi a Ostuni Runner e al Giuseppe La Corte che mi ha gradito diciamo di questa partecipazione dell'amministrazione in un evento che ogni anno diventa sempre più importante e quindi troverà sempre l'amministrazione pronta e disponibile a tutti i miei ricordi